Che ricordo conserva dei suoi anni trascorsi all'Istituto Massimo? Anni estremamente importanti, lo sono per tutti, gli anni dell'adolescenza sono i più significativi nello sviluppo successivo. Certamente anni in cui ho imparato molto, anzi preferire dire con una definizione anglosassone che ho avuto un'educazione importante in quegli anni. Perché penso che al di là dei contenuti validissimi della qualità dei docenti, la vera differenza l'ha fatta essere educato a un sistema di vita ed essere quindi indirizzato all'interno di valori in una prospettiva importante. Direi l'aspetto pregnante, l'aspetto fondamentale è quello dell'eccellenza. L'eccellenza dei comportamenti, l'eccellenza dei colleghi, la qualità dell'approfondimento era l'unica strada per la propria vita personale ma anche professionale. E quindi credo, come si usa a dire, una scuola di vita, un'esperienza importante. Ho avuto dei compagni di scuola importanti, ho avuto le persone con cui poi mi sono continuato a confrontare nella vita e quindi sì, mi sono divertito, ho anche sofferto qualche compito di greco e di latino e qualche interrogazione particolarmente dura. Però avevo sempre la percezione, che poi ho avuto modo di approfondire successivamente, che quello che facevamo lì era non solo imparare i concetti, approfondire i contenuti, ma era vivere un'esperienza. E ignazianamente i miei docenti hanno fatto questo, mi hanno trasmesso le esperienze. Cioè non mi insegnavano soltanto le regole di grammatica e sintassi, che appunto facevamo tutti un po' fatica allora ad apprendere, ma perché per la loro vita lo studio, l'approfondimento, la docenza era stata importante. Quindi questo direi che è l'essenza poi che ho percepito e ho mantenuto successivamente, che ci si trasmette le esperienze, si approfondiscono le esperienze, dove poi i concetti, le regole, i fondamentali sono importanti, importantissimi. Però si vive in un mondo di relazioni interpersonali e di molti padri e di molti docenti è un ricordo affettuoso, con grande rispetto ovviamente anche per le ore di religione che hanno una grandissima importanza. Questo tipo di insegnamento, questa fiducia nell'orizzontalità, nel rapporto tra docente e discente, ma tra umani in qualche modo, è stato il terreno fertile in cui poi l'insegnamento religioso, l'approfondimento, i ritiri spirituali, dei ricordi bellissimi dei ritiri spirituali che erano anche lì, un misto di grande approfondimento, grande religiosità, ma anche grande divertimento, si finiva spesso poi a giocare a pallone, si finiva comunque nei momenti di interruzione anche con le battute, i frizzi e i lazzi che tra ragazzi adolescenti e anche con i padri gesuiti non sono mai mancati. Quindi credo che fosse il clima generale, quindi non tanto e non solo dire facciamo lezioni di religione, questa è la fede, Dio lo vuole, un po' di tedesca memoria, ma essere qualcosa che invece pervadeva i comportamenti, i rapporti e come dicevo non è finito lì, siamo ancora qui a oltre 30 anni. Io ricordo sempre con maggior divertimento di quei mascalzoncelli che eravamo e che avevamo un padre che ci insegnava storia, che era padre Guglielmi, che era un napoletano simpaticissimo e molto dolce e si fidava un po' troppo di noi e una volta riuscimmo con le tecnologie di allora, oggi sarebbe stato ancora più facile farlo, a mettere sull'altoparlante un registratore nel quale simulando la dizione, il modo di parlare e di esprimersi di padre Emile Fiorini che era appunto il padre lettore, fu lanciato un messaggio che tutta la scolaresca avrebbe accompagnato padre Guglielmi a ricevere un premio dall'allora Presidente della Repubblica ed è fatto talmente bene che per i primi minuti vedemmo lievitare sulla sedia e sulla cattedra di padre Guglielmi giustamente inorgoglito questo fatto che il padre rettore annunciava che tutta la scuola avrebbe accompagnato padre Guglielmi a ricevere un premio dal Presidente della Repubblica. Era ovviamente tutto falso ed era un modo non tanto di schiernirlo ma di vedere questa sua dolcezza straordinaria che era vera.